Musica Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Cristo risorto, buona giornata carissimi amici Anche oggi il Signore bussa alla porta del nostro cuore Apriamoli affinché le sue parole possano trovare in noi un terreno buono Dove produrre grandi frutti Ecco allora che oggi la liturgia ci presenta il Vangelo secondo Marco Capitolo 4, 21-25 Diceva loro Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto O non invece per essere messa sul candelabro Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato E nulla di nascosto che non debba essere messo in luce Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti Diceva loro Fate attenzione a quello che ascoltate Con la misura con la quale misurate Sarà misurato a voi Anzi, vi sarà dato di più Perché a chi ha sarà dato Ma a chi non ha Sarà tolto anche quello che ha A me Allora il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato Questi pochi versetti Sono esattamente cinque Succedono al brano di ieri Che era molto lungo Ed era la parabola del seminatore Che Gesù dice E quindi lo stesso discorso di oggi Cioè la continuazione Sulla barca Di fronte a una folla di persone Che stava a lungo il mare di Galileo Ecco che Gesù Quindi continua Lo stesso discorso Se ieri per noi Ha parlato Del seme della parola Che viene da parte sua Che è il seminatore E che ha necessità Di riceverlo In un terreno Un terreno che sia buono Altrimenti Se il terreno è sassoso Pieno di spine O un terreno comunque Che non permette Che il seme scenda E produca frutto Allora sarà difficile Che la parola di Dio Porti davvero speranza E nuova luce Nella nostra vita Ecco perché A proposito di luce Gesù dice Viene forse la lampada Per essere messa Sotto il moggio Sotto il letto Ecco che Dice Deve essere messa Invece sul candelabro In vista Allora Gesù ci sta facendo capire A noi E alle folle Che lo stavano ascoltando In quel discorso Che la parola Che la parola che viene Seminata È stata donata A noi Affinché Produca davvero frutto In abbondanza Ma affinché questo frutto Che viene prodotto in noi Possa diventare una luce Una luce In una lampada Che arde Arde nella nostra vita Ma non solo per noi Ma anche per gli altri Perché Il Signore ci dona Di Seminare Di far crescere Questa parola In un modo costruttivo E comunitario Ovvero Quando la parola di Dio Viene Quando produce i frutti Nella nostra vita Non sono frutti Che sono solo per noi Ma sono anche per gli altri Ecco perché Gesù dice Quella luce Che voi poi avrete Quando raccogliete Il trente Il sessante Il cento per uno Possa vedersi agli altri Possa essere donato Agli altri Ecco che In questo consiste E poi dice Di misurare E con questa stessa misura Come noi misuriamo Sarà dato a noi Perché Il Signore Attraverso la Sua parola Produce in noi Grandi frutti Frutti di speranza Frutti di amore Frutti di pace Frutti di gioia E Questo Fa sì Che noi possiamo Poi vivere Quindi è la conseguenza Quello che oggi ascoltiamo Di questa parabola Del similatore Una conseguenza Una conseguenza Nella mia vita Concreta Quotidiana Quindi quanto più Io sono In Lui Produco frutto Nella Sua parola Tanto più In tutto ciò Che farò Nella mia stessa Famiglia Pensate che bello Nel mio stesso lavoro Dove io sarò Porterò Benedizione E addirittura Poiché misurerò Secondo la misura Di Dio Quindi abbondantemente Dice Mi sarà dato Di più Perché A chi ha Sarà dato Ecco quanto Importante Fratelli e sorelle Quindi Innanzitutto Riprendo Marco 4 1 Quindi questa parabola Del similatore di ieri Essere terreno Che produce Essere un terreno Buono Un terreno Aperto Un terreno Disponibile a Dio Per produrre Grandi frutti I frutti Alla fine Vogliamo sapere Di che cosa si tratta Si tratta Di benedizioni Spirituali E materiali Perché quando Accogliamo La parola di Dio Questo seme Produce frutti Non riusciamo Ad essere Delle persone Che hanno Pazienza Uno dei frutti Sarà la pazienza Non riusciamo Ad essere Mansueti Nelle relazioni Con gli altri Uno di questi frutti Sarà la Mansuetudine Non riusciamo Ad essere In pace In certe Situazioni Condizioni Personali O interpersonali Ecco che uno di questi frutti Sarà La pace Non riusciamo Ad andare In comunione O d'accordo Con altre persone O con qualcuno In particolare E vorremo Ma non ce la facciamo Ecco che uno di questi frutti Sarà Una nuova relazione Una armonia Una comunione Ecco che Quindi Quanto è importante Iniziare bene Con la preghiera Con la parola di Dio Il Signore ci dona Questi frutti Questi frutti Risplenderanno Nella nostra vita Porteranno Luce A coloro Che sono Nelle tenebre E che hanno bisogno Di fare esperienza Di Dio Ecco che Il Signore Quindi Darà a noi Affinché noi Possiamo Moltiplicare Questi doni Per gli altri E riceveremo Ancora di più Questa è la buona notizia Perché chi semina Nel Signore Raccoglierà Abbondantemente Quindi fratelli e sorelle Io vi esorto Di Non riservare Poco tempo Al Signore Ogni giorno Ma diamo Il tempo a Lui Perché il tempo Che noi In cui noi preghiamo Ascoltiamo La Sua parola Troviamo Un momento Per la celebrazione Ecco che il Signore Lo moltiplica Lo moltiplicherà Nel tuo lavoro Nella tua casa Nella tua famiglia Il Signore Davvero farà Grandi cose E porterà Come abbiamo detto Anche l'altro giorno Guarigione Liberazione Personale E per le persone Per le quali Tu preghi Perché sei stato Un terreno buono E il Signore Quindi ti darà Molto di più Di quanto Gli chiedi E allora Le diciamo Vieni Signore Gesù Anche oggi Nella mia vita Vieni a visitarmi Io voglio Aprirti Perché tu bussi Al mio cuore E io ti chiedo Anche oggi Di parlarmi E il seme Della tua parola Possa trovare In me Un terreno Fertile Un terreno Che ti accoglie Un terreno Disponibile A realizzare La tua volontà Grazie Perché sei con me Aiutami Ad essere Luce Lampada Che arte Per te A tutte le persone Che incontrerò Con cui parlerò E a cui Tu mi mandi E sento Nel cuore Che lo farai A te Signore Gesù Sia sempre L'onore E la gloria Nei secoli Dei secoli A me Carissimi amici Cerchiamo di essere Come oggi abbiamo Ascoltato Una lampada Che porti Luce Agli altri Mi raccomando Una lampada Gioiosa Dobbiamo ardere Del Signore Della sua parola Con gioia Amen E' solo così Che gli altri Saranno contaminati Dalla nostra luce La luce di Dio Grazie che mi avete accolto Buona giornata A domani Ciao Fammi conoscere Signore Le tue vie Fammi conoscere Signore Le tue vie Fammi conoscere Signore Le tue vie Insegnami I tuoi sentieri Guidami Nella tua fedeltà E istruiscimi Perché sei tu Il Dio Della mia salvezza Fammi conoscere Signore Le tue vie Ricordati Signore Della tua misericordia E del tuo amor